Un saluto amici, benvenuti, Guido Bagatta con voi per parlare di atletica leggera. Infatti iniziano a Eugene, la patria della Nike, dove è nata praticamente la scarpa più famosa al mondo, il baffo più conosciuto in tutti gli sport, ma non solo. A Eugene si corrono i mondiali di atletica leggera, per una decina di giorni l'atletica leggera focalizza appunto il tutto da quelle parti. Mondiali un po' particolari, di solito stadi grossi, stadi con il campo da calcio in mezzo, quindi stadi fatti anche per altri sport. Eugene invece l'atletica leggera comanda e come, vicino c'è il campo dell'Università di Oregon, correrà, speriamo, lo crediamo al 99.9%, anche Marcello, anche Marcel Jacobs, il nostro campione olimpico, che torna in pista dopo i mondiali indoor, ma quelli erano 60 metri, ha la prima prova provata per cercare di far credere a tutti che è ancora lui l'uomo più veloce del mondo. Noi lo sappiamo, noi ci crediamo, qualcuno ha sempre avuto dubbi dagli inglesi e dagli americani, è l'occasione buona per fargli capire che domina ancora Marcel. C'è però un punto di domanda che riguarda le condizioni fisiche del nostro atleta del lago di Garda. Che cos'ha Marcel Jacobs? È, tra virgolette, leggermente infortunato da troppo tempo. Dopo i mondiali indoor qualcosa è successo, leggero stiramento, non si è mai sentito bene, ha corso un meeting al quale tiene molto, il meeting di Savona, lì si è fatto male, non malissimo ma male. Da quel momento è cominciato un'alternarsi di notizie che lo riguardavano, certe volte confortanti, certe volte un po' meno. Ha rinunciato a diversi meeting, ha corso ai campionati italiani senza troppi problemi, distaccando anche avversari importanti come Tortu. Poi ha deciso di non andare alla Diamond League, il meeting di Stoccolma, per centelinare un po' le sue prestazioni per il problema alla coscia. Come arriva Marcel Jacobs a Eugene? Tutti quelli che lo circondano dicono molto, ma molto bene. Ah, parentesi, c'è anche il capitolo per quanto riguarda il Qatar con i problemi che erano venuti anche da quello che era successo in Kenya, l'avvelenamento per il cibo, insomma è stato un anno, una prima parte dell'anno non fortunatissima per Marcel. Torniamo invece indietro, chi lo conosce, chi lo frequenta, dice che sta bene, dovrà chiaramente confrontarsi col meglio del meglio e con molti atleti che vogliono il suo scalpo, ovviamente per quanto riguarda i 100 metri dopo quello che è successo a Tokyo. Ci saranno più americani che a Tokyo perché ai mondiali ci sono più posti disponibili rispetto alle Olimpiadi per le varie nazioni, il che vuol dire che il gruppo degli avversari sarà ancora di più, ancora più folto rispetto ad un anno fa. Per quanto ci riguarda, forza Marcel, diamo la dimostrazione che sei veramente ancora e ancora per tanto tempo l'uomo più veloce del mondo.